Nessuna impennata di contagi, ma l'andamento incerto basta e avanza a far tornare le marche zona arancione. Ieri il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati era dell'11%, oggi è del 14,6%. L'indice dei contagi delle marche resta a RT inferiore a 1, come confermano i dati forniti dal Servizio Sanitario Regionale, che comunque costringono a mantenere la guardia alta. 571 nuovi casi positivi su 3.913 nuove diagnosi per un totale di 6.239 tamponi processati. Peso Urbino paga con 111 contagi, fanno peggio Macerata 132 e soprattutto Ancona 175. La zona arancione è un dazio da pagare dovuto soprattutto all'indice di rischio con ospedali sotto stress a cominciare da quello di Urbino, che da una settimana ha visto focolai di Covid fra medici e infermieri con relativi trasferimenti di pazienti e chiusura di reparti. Una situazione monitorata dal Comune che guarda con cauto ottimismo alla settimana che verrà. C'è stato questo focolaio di infezione tra i medici e quindi si è dovuto chiudere i reparti. È stato fatto in modo adeguato e accurato e a distanza di una settimana, speriamo come è stato detto dalla direzione dell'ospedale, che i primi della prossima settimana riapriranno i reparti che sono stati chiusi. I contagiati ricoverati o in transito all'ospedale d'Urbino sono ritornati in un numero bassissimo, ieri l'altra sera erano 4 su 15 che invece sabato scorso erano e la preoccupazione nostra era quella di non diventare un ospedale Covid perché abbiamo bisogno del nostro ospedale d'Urbino non per i cittadini d'Urbino ma per i cittadini di tutta la provincia che hanno problematiche non Covid, quindi patologie non Covid. Quindi noi teniamo particolarmente che l'ospedale d'Urbino si rimanga libero da Covid proprio per questi motivi.